E' negli anni 60 dell'Ottocento, proprio attorno al 1864-65, che nascono in contemporanea le prime aree protette e i primi movimenti, le prime associazioni per la protezione della natura, quelle che noi definiremo oggi ambientaliste. L'esigenza è duplice, è quella da un lato di reagire offrendo alla popolazione dei paesi industrializzati che vive sempre più in città affollate e inquinate delle aree integre e di tutelare dei ambienti che sono sempre più minacciati dalla costruzione di edifici, di infrastrutture, di industrie con i relativi inquinamenti. Questo movimento inizia negli Stati Uniti tra il 1864 e il 1872 e nel 1872 viene istituito il primo parco nazionale del mondo. Noi oggi abbiamo di fronte decine di migliaia di aree protette con diverse denominazioni, con diversi tipi di organizzazioni, ma l'idea originaria che si diffonde in tutto il mondo a partire dagli anni 70 è quella specifica di parco nazionale e il parco nazionale di Yellowstone è il primo esempio di grande area naturale protetta ed è attraverso proprio il concetto di parco nazionale che l'idea di proteggere dei lembi di natura intatta si diffonde progressivamente in tutto il mondo. Perché i parchi nazionali giungano nel cuore dell'Europa ci vorranno ancora diversi anni con una novità, un cambiamento, saranno parchi di piccole dimensioni e l'Italia ha una caratteristica particolare che istituisce per la prima volta nel mondo dei parchi nazionali con dei centri abitati dentro e con migliaia di abitanti all'interno o nei confini, nelle aree immediatamente circostanti. L'Italia fa da battistrada questo modello di parchi popolati, diciamo così. Per quello che riguarda la vicenda italiana, noi quest'anno, nel 2022, celebriamo i cento anni dei primi parchi nazionali italiani che sono anche le prime aree protette italiane. Cioè il parco nazionale del Gran Paradiso e il parco nazionale d'Abruzzo, istituiti nel giro di poche settimane a cavallo tra il 1922 e il 1923. È interessante notare, e non è certamente casuale, che questi due primi parchi nazionali italiani sono due parchi nazionali di montagna. La remotezza che gli Stati Uniti e anche il Canada erano riusciti a realizzare con facilità in aree molto distanti dai grandi centri abitati, l'Italia riesce a realizzarla soltanto in aree di montagna relativamente poco popolate, ma che sono anche quelle che sono riuscite, grazie a queste caratteristiche, a conservare i boschi più ampi e intatti, come nel caso dell'Abruzzo, e le specie più rare, estinte in altre zone, come è il caso dello stambecco e del camoscio al parco del Gran Paradiso, e come è il caso dell'orso marsicano e del camoscio d'Abruzzo, appunto, nel parco nazionale d'Abruzzo. La storia dei parchi italiani e delle aree protette, diciamo così, italiane è una storia che io non ho mai esitato a definire drammatica, fatta di oscillazioni, di alti e bassi, di periodi di gelo e periodi di grande sviluppo. È molto importante quello che succede a partire soprattutto dalla seconda metà degli anni Sessanta, perché è qui che in Italia, parallelamente a quanto avviene negli Stati Uniti, ma anche in tutti gli altri paesi industrializzati, che si afferma, anche grazie all'aumento dei consumi e del reddito generato dal miracolo economico, un forte interesse per la natura, per la protezione della natura. Ed è proprio sulla base di questa spinta, come è sempre avvenuto nella storia d'Italia, poi in tutto il mondo, ma in particolare in Italia, che si iniziano a realizzare finalmente nuove aree protette, che a differenza che in passato non sono più soltanto parchi nazionali, ma sono aree protette create da una grande varietà di soggetti, associazioni, corpo forestale dello Stato, regioni, province, come il parco in cui siamo adesso, che è un parco naturale regionale. Questo slancio è fortissimo nel corso degli anni Settanta e nel corso degli anni Ottanta e ottiene due risultati molto importanti. Il primo risultato è l'ampliamento straordinario del numero di aree protette e della loro varietà. Il raggiungimento di questo grande obiettivo posto nel 1980 del 10% del territorio tutelato da aree protette in Italia si passa infatti dall'1,5% della seconda metà degli anni Sessanta al 12% attuale, che è una grande conquista e l'altra grande conquista è, dopo 30 anni di discussioni, conflitti proposte, è l'approvazione della legge quadro numero 394 del 1991. È una legge avanzata, è una delle più avanzate del mondo probabilmente, ma l'approvazione nel 1991 della legge è anche un po' il canto del cigno di questo grande movimento. Infatti a partire dagli anni 90 questo slancio popolare diminuirà sensibilmente, molte delle parti più importanti della legge 394 non saranno applicati e anche lo slancio delle istituzioni, delle regioni per esempio si affievolirà progressivamente e gran parte dei parchi nazionali che passeranno da 5 a 24 verranno lasciati un po' a se stessi senza creare sistema. Quali prospettive per il futuro? e cosa fare per il futuro delle aree protette italiane? Ma la prima cosa fondamentale è riuscire a ottenere finalmente una reale applicazione della legge quadro così come fu concepita e approvata nel 1991 in tutte le sue parti. Ma l'altra cosa da fare che non dipende dal Parlamento, non dipende dal Ministero ma dipende da tutte e tutti noi, è la spinta dal basso. Nella storia d'Italia l'ho detto, lo ripeto, la sorte della creazione, della buona gestione delle aree protette è sempre di peso da una spinta dal basso, da una spinta popolare che ha coinvolto l'associazionismo, il mondo scientifico e sulla base di questo anche le istituzioni. Se non si riuscirà a ricreare questo grande slancio, questa grande partecipazione per ottenere aree protette in buon numero, ben gestite e che siano grandi laboratori per superare la crisi ambientale, io credo che non ci sarà un grande futuro per le aree protette italiane.